La Lega Antivivisezione di Sciacca nell'ambito di una campagna promossa dalla LAV a livello nazionale dice no ai botti di Capodanno. Sarà questo uno degli argomenti al centro dell'iniziativa che si svolgerà sabato 16 dicembre dalle 9.30 alle 12.30 al giardino Mura di Vega nel quartiere di San Michele. Un incontro tra i volontari della LAV e i due gruppi scout di Sciacca composti da bambini di età compresa tra 8 e 11 anni denominato il rispetto per gli animali insieme agli scout di Sciacca. Verrà presentata l'iniziativa denominata basta botti per gli animali e per tutti spiegando come gli animali siano terrorizzati dai botti a cominciare da quelli della notte del 31 dicembre e invitando a festeggiare l'arrivo del nuovo anno senza fuochi d'artificio. Una campagna quella contro i botti di Capodanno il cui simbolo è diventato un cortometraggio realizzato da una studentessa del liceo artistico di Messina nell'ambito di un progetto di educazione civica. Non solo i botti di Capodanno all'interno del giardino addobbato per le festività natalizie tra attività di disegno e una sana merenda ci sarà un vero e proprio momento di sensibilizzazione sugli animali rivolto a bambini e ragazzi. Si parlerà di cani e gatti per imparare a convivere con loro ma anche di sterilizzazioni, adozioni e di come prevenire il randaggismo con la microcippatura. Altro tema sarà circhi, zoo e delfinari, liberiamo gli animali. I responsabili della lab spiegheranno come vivono gli animali all'interno di questa realtà e il loro sfruttamento per il solo divertimento degli spettatori. Infine si parlerà anche di animali selvatici. Infine si parlerà anche di animali selvatici.